Rieccoci nuovamente insieme cari amici di Teleradio Padre Pio che ci seguite attraverso radio, televisione ed internet un benvenuto al nostro direttore Stefano Campanella, bentrovato Bentrovato a te, noi ci siamo visti poche ore fa sempre in questa stessa posizione Con l'appuntamento del lunedì pomeriggio con Padre Pio Storia di una vita In queste settimane stiamo raccontando ai nostri telespettatori, radioascoltatori questa bellissima pagina inedita di Padre Pio nella sua Pietrelcina diversi anni a Pietrelcina, poco si è scritto su questo Facciamo un po' di autopromozione Sì, 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 nella sua Pietrelcina, chissà se a Pietrelcina nevicherà oggi dato che qui a San Giovanni Rotondo c'è tanta neve, clima natalizio come sempre Magari possiamo fare un collegamento telefonico per vedere com'è la situazione meteo Come si prepara anche Pietrelcina al Natale Ebbene Stefano, noi quest'oggi qui vogliamo con te aprire una pagina tutta dedicata ai libri proprio perché qualche giorno fa è stato presentato il libro del nostro padre Francesco Savino Padre Pio, l'astro del Gargano Sì, sì Eccolo qui Un libro che è uscito da un po' di tempo Però ieri nella cornice delle attività di animazione del periodo natalizio del comune di San Giovanni Rotondo Ieri, il sabato scorso, c'è stata la presentazione di questo libro Che è il libro scritto da un figlio di questa città, da un figlio di San Giovanni Rotondo Infatti fra Francesco Savino, ecco queste sono le immagini relative al momento della presentazione Riconoscerete anche chi vi parla perché sono stato chiamato a fare da moderatore Fra Francesco Savino, dicevo, nativo di San Giovanni Rotondo Racconta la sua devozione di Padre Pio La sua vocazione che è nata ovviamente l'ombra di Padre Pio Ma racconta in questo libro anche la storia della sua famiglia In particolare, ecco, vedete inquadrata la mamma di Fra Francesco Savino Che è stata colei alla quale ha dedicato il libro l'autore C'era anche il maestro Ciccone che vedete inquadrato Ma che è anche uno dei protagonisti del libro Sebbene dobbiamo dire che il protagonista principale è il papà di Fra Francesco Quest'uomo che ha avuto una maggiore frequentazione con Padre Pio Perché comunque l'argomento del libro è il legame fra la famiglia di Fra Francesco e Padre Pio E quindi il papà, in quanto è stato colui che ha più affrequentato Padre Pio E che ha avuto anche delle esperienze e dei riscontri abbastanza significativi Circa i doni mistici, carismatici di Padre Pio È certamente il protagonista numero uno del libro Peraltro si fa riferimento ad un episodio che era stato raccontato in alcuni testi su Padre Pio Ma in questo caso il racconto è, se non di prima mano, perché non l'ha scritto il protagonista Per lo meno di seconda mano, ma la seconda mano è il figlio del protagonista Perché il papà di Fra Francesco fu chiamato a far brillare una mina nel convento Per rimuovere un grosso masso E Padre Pio già nei giorni precedenti Evidentemente aveva avuto un'illuminazione dall'alto Diceva pregherò perché non sia di morte Una frase che aveva scioccato il papà Giovanni Savino, il papà di Fra Francesco E che cercava di avere delle spiegazioni, di capire di che cosa stava parlando Padre Pio Ma Padre Pio non gli aveva detto nulla Ma non forse per tenerlo, diciamo, lontano Per evitare di tenerlo lontano dal pericolo Forse per non farlo preoccupare più di tanto E qui poi si potrebbe aprire un dibattito Sarebbe interessante con un teologo sulla libertà Sul futuro certo, sul futuro probabile Su quello che Dio conosce nel nostro futuro Ma ci atteniamo ai fatti Padre Pio sapeva che doveva succedere questo qualcosa Non sappiamo perché non ha affermato, non ha evitato Che Giovanni Savino facesse brillare questa mina Che effettivamente nello scoppio Poiché c'era un ritardo Allora Giovanni Savino si era avvicinato Per capire che cosa stava succedendo Insomma viene investito in pieno Dallo scoppio di questa mina E viene accompagnato d'urgenza Gli ospedali di Uniti di Foggia Perché ancora non c'era Casa Sollievo Casa Sollievo era in costruzione E quindi l'ospedale San Francesco Aveva cessato la sua attività Viene accompagnato dall'ospedale di Uniti di Foggia Più morto che vivo Completamente ferito in ogni parte del corpo E soprattutto con grossi problemi agli occhi Ora non vi sto a raccontare Però voglio ripetere qui quello che ho detto anche Sabato sera alla presentazione del libro Probabilmente ed è questo forse il motivo Per il quale il Signore ha voluto Questo sacrificio da parte di Giovanni Savino Ma forse è anche il motivo per cui Padre Pio ha capito che il Signore voleva Tutto ciò è non affermato quest'uomo Certamente questo episodio fa capire Che in questa vicenda è intervenuto Il Signore in maniera preponderante E lo fa capire perché C'è una situazione che meraviglia l'oculista Quando il papà di Francesco Savino Si accorge di vedere Ma ripeto non vi voglio anticipare Perché altrimenti vi toglierei anche Il piacere di leggere questo libro E voglio a questo punto Introdurre un altro concetto Che è stato sottolineato Da tutti coloro che sono intervenuti Dal Sindaco di San Giovanni Rotondo L'ingegnere Luigi Pompilio Che ha portato il saluto Della amministrazione comunale Ma che alla fine Ha anche avuto un'idea Proprio ispirandosi a questa fatica Di Francesco Savino Ha detto Perché non raccogliamo le storie Dei nostri anziani Che hanno avuto modo di conoscere Di frequentare Padre Pio Di avere con lui delle storie Anche non eccezionali Anche non eclatanti Ma che sono significative Quella micro storie che poi fa La storia con la S maiuscola E quindi ha annunciato Che metterà a disposizione Qualche pagina del sito Ufficiale del Comune di San Giovanni Rotondo Proprio per raccogliere queste storie Quindi a partire dal Sindaco E poi tutti gli altri Che sono intervenuti Fra Mariano Di Vito Che è l'amministratore Delle edizioni Padre Pio da Pietrelcina Che ha pubblicato il libro E poi il relatore ufficiale Della serata Fra Luciano Lotti Tutti hanno evidenziato Che è un libro Che si lascia leggere D'un fiato È un libro scritto molto bene Che scorre Con un linguaggio fluido E quindi Al di là del valore importante Della testimonianza diretta Di chi ha vissuto Gli avvenimenti C'è anche il valore Della modalità Con cui il libro è stato scritto Che veramente lo rende Facilmente leggibile Fra Mariano Poi ha sottolineato Alcuni aspetti Del contenuto Del libro Sottolineando in particolare Il ruolo della mamma Di Fra Francesco E del papà E evidenziando anche Che il libro Narra momenti lieti Accanto a Padre Pio Ma anche momenti tristi Perché leggendo le pagine Di questo libro Vi accorgerete Che non sono mancati Anche episodi Drammatici Nella vita Di questa famiglia Della famiglia Savino Situazioni che hanno fatto Temere anche Per la sopravvivenza Di alcuni dei figli E in ogni caso La presenza di Padre Pio È stata sempre L'elemento Che ha dato loro Speranza Appena c'era Qualche problema Soprattutto se Il problema era serio La fede Portava Questa famiglia E in particolare La mamma di Fra Francesco Verso il convento A chiedere consiglio Aiuto A Padre Pio Quindi davvero È un libro Significativo Anche perché rappresenta Questo l'ha evidenziato Anche Fra Luciano Lotti Uno spaccato Del rapporto Fra le famiglie Di San Giovanni Rotondo E Padre Pio E quindi si comprende Come davvero Questo frate Cappuccino Sia diventato Il punto di riferimento Di tutte le famiglie Di credenti Di San Giovanni Rotondo Che per qualunque problema Per qualunque situazione In qualunque momento difficile Ricorrevano a lui C'è anche da sottolineare Che lo stesso Padre Pio Ha sempre amato Il popolo di San Giovanni Rotondo Che è stato fondamentale In alcuni anni Critici della sua vita Proprio per il suo Trasferimento Già deciso E chissà Oggi dobbiamo dire Grazie anche A quei San Giovannesi Che Che riuscirono A non far partire Lo stesso Padre Pio Da Pietrelcina Da San Giovanni Rotondo E poi grazie anche Al grande calore Che hanno dimostrato Allo stesso Padre Pio Da Pietrelcina In determinati momenti Della sua vita E come tu anticipavi Ecco Questo grande rapporto Con le diverse famiglie Ci sono tanti aneddoti Anche in tutta In tutta San Giovanni Rotondo Tanti piccoli aneddoti Ed è un'ottima intuizione Quella del sindaco Raccontare Ecco Per far sì che Il messaggio Il suo carisma Possa Diffondersi Ancora di più Soprattutto Questa immagine Di un Padre Pio Che continua a parlare Certo E poi Fra Luciano Che forse è stato Colui che ha fatto Un intervento Proprio sul rapporto Fra Padre Pio E San Giovanni Rotondo Essendo anche lui Figlio Di questa Di questa cittadina Ha evidenziato Proprio Questo fatto Cioè che Davvero C'era un feeling Un legame Molto forte Fra la città E Padre Pio E Soprattutto Ha detto Fra Francesco Nei primi 40 anni Di permanenza Di Padre Pio A San Giovanni Rotondo Perché Forse gli ultimi 10 Un po' Per Gli effetti Della visita A Maccari Un po' Perché Col passare Del tempo Gli acciacchi I problemi di salute L'avanzare Dell'età Hanno reso Ancora più Critica La situazione Fisica Di Padre Pio Impedendogli Di andare Spesso in paese Ma all'inizio Ha detto Fra Luciano Nel suo intervento Alla presentazione Di questo libro All'inizio Padre Pio Spesso scendeva In paese E quindi Non c'era soltanto Questa processione Di San Giovanni Che andavano Verso il convento Per ricorrere A Padre Pio Nei momenti difficili Ma era lo stesso Padre Pio Che spesso Andava a trovare Alcune persone In casa All'improvviso Si presentava Con i confraterni Talvolta in bilocazione Dobbiamo anche dirlo E quindi Soprattutto Nei momenti difficili Quando c'era Un moribondo Padre Pio Padre Pio Era al suo capezzale E come abbiamo detto Anche in uno Degli spazi Dedicati Alla storia Di Padre Pio Fin dall'inizio Fin dai primi giorni Della sua Prima e breve Permanenza Quella cominciata Il 28 luglio Del 16 A San Giovanni Di Rotondo Padre Pio Si recò A casa Del Del signor Fini Per Per Assistere Questo Il capofamiglia Che era Che era Ammalato Il signor Fiorentino Mi correggo E quindi Questo rapporto Poi è continuato Per i primi anni Quando Padre Pio Era più libero Ma poi Comunque Il rapporto Con la città È proseguito Anche negli anni In cui La salute di Padre Pio Non era più Diciamo In grado Di portarlo Verso il paese Attraverso Questo Continuo andare Verso Il convento Ebbene Allora Noi ti ringraziamo Stefano Per aver fatto Un sunto Di questa presentazione Avvenuta Qualche giorno fa Qui a San Giovanni Notondo Nel chiostro comunale Salutiamo anche Padre Francesco Che proprio Il martedì Con Caro Padre Pio Ci dà la possibilità Di leggere Tutte le vostre E-mail Le vostre lettere Giù dalla Chiesa inferiore Che custodisce Le spoglie mortali Del nostro caro amato San Pio Da Pietrelcina Proprio con la rubrica Settimanale Di Caro Padre Pio Molte volte Ci scrivono I nostri telespettatori Stefano Ma è anche Importante E noi ringraziamo Anche la disponibilità Dei frati minori Cappuccini Che danno una mano Soprattutto per andare A diffondere il messaggio La buona novella In tutto il mondo Ecco Grazie allo sforzo E la scommessa Di Teleradio Padre Pio Grazie anche a te Stefano Grazie a te Stefano